italiano. Reti da pesca fantasma, combattere i predatori invisibili dei nostri oceani. Nelle profondità dell'ambiente marino si nascondono predatori invisibili che minacciano il delicato equilibrio della vita. Da anni ci dedichiamo alla lotta contro queste minacce nascoste, concentrando i nostri sforzi sulle reti da pesca fantasma che si anidano nel mondo sottomarino. I nostri sforzi ci hanno portato in diverse località tra QSS Douglas, Tres Cruces, Kayawank e altre all'interno dell'area naturale protetta di Los Cobanos. Anche la caldera dell'Iropango ha avuto giorni di pulizia delle reti. Nel 2018, una pietra miliare importante nella nostra missione si è verificata quando il professor Enrique Barrazza e io abbiamo rappresentato il Salvedore al progetto Iniziativa Globale. Attrezzatura Fantasma, laboratorio subacqueo di pesca fantasma in America Latina a Panama, organizzato dall'istituzione Smithsonian durante questo prestigioso evento, ho avuto l'onore di tenere una conferenza, facendo luce sui nostri sforzi e risultati indipendenti per affrontare il problema delle reti da pesca fantasma in El Salvador. La N.P. Los Cobanos, con la sua estesa barriera corallina. Rocciosa che copre 75 miglia quadrate o 195 chilometri quadrati e conta più di 200 punti di pesca registrati, è sia il nostro campo di battaglia che il nostro santuario. Per salvaguardare questo ecosistema vitale, abbiamo sostenuto la necessità di una batimetria giornata per colmare le lacune nelle nostre conoscenze. La N.P. è governata da norme severe, tra cui il divieto di qualsiasi forma di pesca con le reti e il mandato per l'uso di ami specifici per legge. La nostra lotta si estende oltre queste coste, poiché affrontiamo la minaccia della pesca illegale della ragosta con reti di fondo e l'uso diffuso di ami di qualità inferiore. Siamo guidati da un profondo impegno per la conservazione di questi habitat marini, garantendo la loro resilienza per le generazioni a venire. Ma un avvertimento, non si tratta di un compito qualunque. Il ripristino delle reti fantasma è un compito pericoloso, pieno di rischi che possono mettere a repentaglio la sicurezza delle persone coinvolte. Una supervisione e una formazione adeguate sono essenziali, poiché il pericolo di rimanere impigliati è molto grande. Insieme, siamo uniti nella nostra determinazione a combattere questi predatori. Invisibili e a proteggere i tesori dei nostri oceani. Unisciti alla lotta contro le reti da pesca fantasma. Insieme sveleremo le profondità nascoste della conservazione marina.